Grazie a tutti Notebook Lenovo con scheda grafica 2G dedicata in sottocosto a 499 euro Huawei P30 Lite in sottocosto a 279 euro Lavatrice cani di 10 kg in sottocosto a 299 euro Il solo da noi paghi in 20 mesi a tasso zero prima rata a gennaio 2020 Experte gruppo Somma, gli esperti siamo noi Si è iniziata la scalata ad avere molta più serenità Ad essere più sorridenti durante la settimana Ad affrontare gli allenamenti in primis e poi le gare con un altro atteggiamento Perché continuare a perdere ti fa perdere certezze Ti fa lavorare con poco entusiasmo Inizia a minare tutto quello che avevi cercato di costruire durante il ritiro Durante queste prime partite Io mi auguro che i ragazzi abbiano avuto una svolta mentale Perché oggi l'hanno dimostrato Chiaramente ci torneranno a esserci Mi auguro poche volte Momenti dove andremo in difficoltà Ma dobbiamo affrontarli con il giusto atteggiamento Senza deprimerci Perché in alcuni momenti non siamo stati squadra vera Invece adesso saltano fuori tutti i componenti della panchina dopo un gol Si abbracciano tutti Finalmente queste cose mi rendono felice E mi auguro che si possano ripetere da qui per il proseguo Grazie Grazie Grazie